benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale iniziamo come ti consueto la nostra rassegna sportiva con il calcio nell'ambito di due diversi procedimenti il tribunale federale nazionale presiduto da carlo sic ha sanzionato il cosenza squadra calapresa in milita inersi libri con quattro punti di penalizzazione da scontare in questa in questa ovviamente giornata in questo anno e non messo 10.000 euro di ammenda alla società per quanto riguarda gli squalificati sono stati sanzionati dal giudice sportivo iaia callone della salernitana luca locospigli della cremonese matteo lobato del sassuolo in campo oggi la serie alle 18 e 30 venezia torino 20 45 inter atalanta domani alle ore 18 e 30 lecce cagliari a 20 45 lazio milan e alle 20 e 45 napoli parma domenica invece il campo genoa verona alle diciotto e 30 insieme a fiorentina monza 20 e 45 juventus rom che sarà il big terzo big match di questa giornata insieme a lazio milan e poi e inter atalanta e poi alle 20 e 45 sempre di domenica udinese come per quanto riguarda la serie b queste sono le partite che si disputeranno domani alle ore diciotto sampudori a bari che sarà il big match mentre nella serata modena cittadella pisa reggiana sassuolo cremonese altro big match e su tirollo e brescia domenica invece catanzaro carrarese prosinone juve stabia e a chiudere mantua salernitana sabalermo cosenza e spezia cesena si sono concluse le fasi finali delle fasi principali le fasi finali per le fasi principali europa league conferenze league nella terza competizione europea la veritina ha staccato il pass battendo il puskash academy in ai calci di rigore questi sono i risultati di europa league betr kubb i tenci luto gorezzo 1 a 2 apple ricas 4 a 5 calci di rigore elzburg molde 4 a 3 calci di rigore andalec di dinamo misc 1 a 0 becittas lugano 5 a 1 ajax giorgi lona 3 a 0 stea wallask 1 a 0 earth of middleton contro vittoria plisian 0 a 1 bacchato colam capitela vip 1 a 5 rapide vienna sporting braga 2 a 2 chamarok rovers pauk sanonico 0 a 2 e borak banja lukas ferrenkavos 0 a 0 queste sono le squadre classificate quindi per il turno che verrà emanato in questo in questo momento che si sta svolgendo adesso ajax bc ajax bc tassepe fs ludovorez elzburg andalex stavo a bucarest victoria polizion borca bagna luca sport in braga pauk salonico ma capitella di efferenkavos come detto si è stata svolta anche la terza competizione europea per la conferenza league questi sono i risultati il leggente batte 1 a 0 il partizio di belgrado il basha xir vince 2 a 0 contro il san patrick l'astana batte 3 a 0 il bran l'u gk l'hgk abbattuto il clasvic 2 a 1 il viro monia vince 1 a 0 il ruzonberg batte lenoa 3 a 1 l'olimpia nubiana vince 5 a 0 contro il rieca il paschi vince perde 3 a 0 contro il blada bolsjav il papos vince 3 a 0 contro il fluj transponspor pareggia 1 a 1 contro san galen e perde i calci di rigore per 5 a 4 il tnf per pareggia 0 a 0 contro l'fh panevirs però passa la squadra del panevirs il vicio a cracoglia batte il clark blu per 4 a 1 in casa della squadra bergia il dritta ha perso 1 a 0 contro il leggia il kilmaroc pareggia 1 a 1 contro lo copenoghen contro il copenaghen però passa la squadra danese il panaitos vince 2 a 0 contro l'ens l'unione europea santa polom contro il vikenbrick reikovic 0 a 0 0 a 5 però grazie alla squadra islandese per la vittoria dell'andata il betis e sevilla batte 3 a 0 il tripas il larne vince 3 a 1 contro lì e come vedete la fiorentina pareggia 1 a 1 in casa delle pusca sciaccateli però vince ai calci di gol per 4 a 5 queste sono le squadre che si sono qualificate astana hgk e anzichi omronia vincosia noa olimpica lupiana papus madela bosel sangallo tns clark bruce levi già varsago copenaghen panatinaikos vickenburg victoria di marace di un garden selia heidenen cialzi larne petis e sevilla e fiorentino per quanto riguarda invece i sorteggi che sono stati svolti ieri pomeriggio per la gente queste sono i sorteggi per quanto riguarda le macro aree per l'italia l'inter ha pescato il manchester city l'ipsa l'arsenal il paolo per usi per monaco sparta praga stella rossa young boys la juventus invece le manchester city l'ipsa il krebrugge e le benfiche il psv ha indovani lì dello stoccato l'aston villa l'atalante invece il barcelona il real madrid dell'arsenal southwick glasgow lo young boys lo slim grazie lo stoccato il milano invece la real madrid e club brugge mi vai a l'everkusen stella rossa dinamo zagata girone e brateslava e le bologna invece in le borussia dortmund in liverpool e benfiche la schattar dones che libero sport in lisbole in monaco e la stombia per quanto riguarda invece il mercato italiano la juventus cede sia facundo gonzalez al firenode che decidio all'empo e la roma invece preleva sale makers dal milan e abram sta per firmare con il milan al torino invece arriva valut vijek scusate la pronuncia dall'empoli mentre esteves saluta rodinese per andare al iverdon e preleva baio per il prossimo anno dal watford gaston perredo rescinde del contratto dal cagliari l'empoli preleva in prestito dal cialzi tino ogni oiorin e sazonov e pellegri dal torino per quanto riguarda il bari preleva nuzio l'ella dal venezia per quanto riguarda il mercato estero il lester prende dalla genc bilal e canos aurelio busta lascia line track francoforte per il rome enzo boiano lascia il vialolid per la sasuna il valencia cede oscar al real vialolid e le similia cede joan jordan alla lavesse il benfica preleva armogurie mentre la volsburg preleva dal pauc il greco calirendarghis mentre il borussia dortmund manda in prestito con i bali al brest passiamo adesso alle tennis per quanto riguarda l'uesopene mattia bellucci ha perso contro christopher o'connell per 3 6 4 6 6 3 3 6 viene eliminato mentre martello ornaldi vince facile contro rovan salifun per 6 2 6 4 6 4 jannick zinner batte agevolmente alex michelsson per 6 4 6 0 6 2 colabio cobori invece batte zizu berce per 4 6 6 3 7 5 6 3 in campo oggi bredono nagashin contro lorenzo musecchi nelle fine settimane invece jannick zinner affronterà christopher o'connell frago cobori daniel mettepev e matteo ornaldi contro giordan thompson per quanto riguarda i votiari salifetta cioccaretto ha perso contro anastasia palaudo luce ancora per 7 5 1 6 2 6 caroline d'oelva perde contro saranani per 5 7 5 7 mentre carolina piscopo aperta tavolino contro jasmine paolini in questo fine settimana uia putin cioff affronterà jasmine paolini e salernani affronterà diana schneider nel doppio atp joe salispuri e rayed ram hanno vinto contro luciano gardelli e ferdinando roboli per 6 7 6 1 7 5 nelle fine settimana dominic striker e flabio cobori affronteranno henry patten ed è heavy e liovara andrea vavasori simone bololi volerli scusate affronterà casper rud e william bloomberg nelle buti a one young one e new yucato hanno perso contro saranani e jasmine paolini per il 2 6 3 6 e mentre mattina trevisan e anelina calina hanno perso contro catherine harrison e alicia roloschka per 7 6 7 3 6 nelle fine settimana eric daft e diane perry affronteranno jasmine paolini salernani mentre shelby rogers e petra maric affronteranno angeli gambonatelli e jacqueline cristiano proseguiamo la nostra rasterina sportiva con l'nbs che ha prolungato il suo contratto con il golden state warriors fino al 2027 apriamo la nostra parentesi con i motori in questo fine settimana per la moto gp andrà in scena il gp di aragona dodicesimo appuntamento del calendario ovviamente ci saranno moto 3 moto 2 e moto gp per quanto riguarda le quattro ruone ci sarà il l'atteso gran premio a monza valido per il quindicesimo appuntamento del mondiale solito prove libere prove ufficiali alzato e domenica l'attesa gara per quanto riguarda invece il campionato nascara l'ultima chiamata per il playoff con l'edizione 2024 sarà al sol per nel 500 nella seconda mai prestazione che si deve che si presiede alla derling racing in south carolina inoltre è stato presentato ufficialmente il calendario della nascar cup series del 25 saranno 36 le competizioni 26 per quanto riguarda la regular season passiamo all'indicare appuntamento importante in questo fin di settimana milwaukee mile con all'interno della entity in the car series per quanto riguarda le ue che si riparte dalla texas precisamente alla sequels of the americans quota con il fiat world endurance championship passiamo al ciclismo bella vittoria di paolo castrillo dell'equipo kern farman nella dodicesima tappo della volta di spagna questa è la prima vittoria per la piccola squadra squagnolo in un grande giro bella e importante è stata la cura di pablo castrillo che si è riuscito poi alla fine a mantenere nervis e a vincere la gara in seconda posizione ha chiuso max puere della dsm firmatech post nl e terza posizione per marco solere della white team emirates ha controllato bene ben o'connor e ha stazionato ancora con il gruppo dei migliori e ancora tutti il leader della classific generale passiamo all'atletica con il calendario del golden gala saranno presenti già marco taberi nate tamberi nadia batocletti enti diaz lorenzo simonelli e stefano sottile elisa morina rollo e roc roberto bruni insieme a marcia giacos questo è il calendario per questa serata alle 19 30 il lancio del disco maschile 19 48 salto del maschile 20 e 15 getto del peso maschile 20 e 37 salto con l'asta femminile 21 e 04 400 metri maschile 21 e 15 100 metri ostacoli femminile 21 e 20 salto in alto maschile 21 e 24 3000 siepi femminile 21 e 41 salto in lungo femminile 21 e 44 200 metri femminile 21 55 100 metri ostacoli maschile 22 e 28 400 metri ostacoli e 22 37 di 5 mila metri femminile 22 52 100 metri ostacoli e 100 metri scusate maschile passiamo america scapp prima vittoria nella louis witton cup per luna rossa ovviamente nella win this win co cup 2024 l'imbarcazione azzurra abbattuto orient express un trionfo deritato a questo dell'equipaggio italiano che ha sfruttato il vento leggero con le offi di mezzo metro grazie a questa vittoria luna rossa agganciato in neos britannica in classifica mentre orient express ha gareggiato due volte sta in seconda posizione una vittoria e uno scolpì davanti a american magic e aline che hanno totalizzato un solo scolpì questo è il calendario per questo fine settimana si inizierà alle ore 14 con america magic contro aline team new zealand contro in eos britannica virus contro american magica team in new zealand contro orient express domani 31 agosto ci sarà aline contro in eos britannica orient express contro america magick in eos britannica contro luna rossa aline contro new zealand domenica invece in eos britannica contro l'oriente express aline contro luna rossa American Magic contro New Zealand e il Conte Orient Express proseguiamo ancora la nostra segna sportiva con il golf al Tour Championship leader Scott Scheffler dopo il primo giro in seconda posizione Colleen Mawinka e Xander Schauffel al British Master leader è Jeong Veong Coin insieme a Paul Waring in terza posizione Jorge Campino e il sud-africano Tiston Lawrence per quanto riguarda invece l'arrampicata sportiva noi abbiamo Ludovico Fossati che vince il titolo europeo che batte in finale l'eco nazionale Matteo Zurloni alla femminile l'Italia sale sul podio grazie a Giulia Randi che ha battuto Beatrice Colt nella finale terza quarto posto concludiamo la nostra rassegna con le Paralimpiadi queste sono state le medaglie vinte dall'Italia ieri ovvero il 29 agosto nel medaglia d'oro per Carlotta Gili nel nuoto paralimpico 100 metri farfalle donne S13 nel Francesco Bocciardo invece 200 metri stile libero uomini S5 queste sono invece le medaglie d'argento Simone Barlam nel nuoto paralimpico 400 metri stile libero nuovi uomini S9 Enfrem Morelli nei 50 metri run uomini SBE 3 mentre queste sono le medaglie di brozzo conquistate Lorenzo Bernal Davide Plabendi nel ciclismo su pista in seguimento individuale 4000 metri Vittoria Bianco nel 400 metri stile libero donne S9 Francesca Francesco Bettella nel 100 metri dors uomini S1 Angelica Procida nel 100 metri dors donne S2 e Monica Boggioni nel 200 metri stile libero S5 con questa notizia è tu vi auguriamo una serena giornata a ch a 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 Grazie a tutti.